Buongiorno, oggi festeggiamo Maria Maddalena, una delle bellissime sante, detta addirittura l'Apostola degli Apostoli, perché è lei che è al centro di tutte le apparizioni dopo la risurrezione di Gesù. Qui addirittura vediamo che il suo grande amore la spinge ad andare mattina presto, quando è ancora buio, ed essere lei ad accorgersi per prima che il sepolcro è vuoto. E poi, pur vedendo Gesù, non lo riconosce, segno che la fede non viene dal vedere, ma la fede le viene da questo nome che viene pronunciato dal Signore, Maria. Con questo nome Maria viene ricondotta a tutto quello che era stato vissuto tra lei e il Signore, un affetto profondissimo sicuramente, che addirittura Gesù porta alle estreme conseguenze, non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre. L'affetto di Maria può addirittura trattenere Gesù dal salire al Padre. Ecco, allora questo ci racconta che anche Gesù è stato profondamente uomo, anche Gesù è stato legato alle persone, anche Gesù vuole lo stesso legame che ha avuto con Maria Maddalena, con ciascuno di noi. Però Maria appunto non trattiene questo affetto, ma lo usa per andare ad annunciare agli Apostoli tutto quello che ha visto. Buona giornata a tutti e fate i bravi. Ciao.